Allora io mi sono chiesto anche alla scorta dell'intervento e della riunione di ieri su che cosa potevamo chiedere specificamente a delle app e alla digitalizzazione per i pazienti oncologici e naturalmente quello che è emerso, l'ho detto, è questa responsabilità, diritti e doveri dei pazienti, quindi patient-centered, data-driven come si dice, e real world evidence, tutte belle parole inglesi, anche queste, che servono però a dirti ti posso seguire durante la tua vita dinamicamente e tu mi dici che cosa io digitalmente devo calcolare e si scopre che quello che i pazienti desiderano sono in realtà poche cose, sono sei cose fondamentali. Uno, avere accesso a delle funzionalità, quindi le app e la digitalizzazione deve avere delle funzioni, ok? Non deve essere semplicemente o soltanto un gioco o un gadget, sebbene il gioco, la parte di gioco sia molto importante, perché giocando noi rimaniamo attaccati alle app, come sanno quelli che disegnano i social media. Ci devono essere delle informazioni dettagliate e devono essere operazionali, cioè io devo fare delle cose, hai camminato oggi? Sì, ho camminato e io ti seguo nel vedere se ho camminato o no e questa è la seconda. La terza, devi avere una comunicazione facile con i professionisti, se io ho bisogno di parlare col mio medico, l'app o il mio infermiere o il mio farmacista mi deve portare a quel collegamento, senza che io cerchi il numero, devo calcare un bottone in relazione a quello che ho avuto o che sento di poter avere. Mi serve per fare, quarto punto, una comunità dei pazienti. Questa è la digital community. Devo avere un'esperienza che sia, il quinto punto, digitale ma affascinante per me, cioè devo avere quella porzione a cui mi riferivo prima, cioè la gamification, come si dice, cioè la parte di gioco, ma soprattutto mi deve coinvolgere per fare in modo che io a quella app appartenga in una continuità, perché altrimenti non aderisco neanche all'app, cioè non ho adesione alle terapie e non ho adesione all'app. Le app servono a migliorare l'adesione alle terapie. L'ultima cosa, che secondo me è la più importante in assoluto, è l'integrazione con i dispositivi indossabili o portatili, perché a quel punto, uno dei quali è lo stesso telefono su cui l'app risiede, cioè quanta attività fisica hai fatto, quanto hai dormito, ultimamente anche come hai mangiato, ecco questi sono gli aspetti in cui la medicina digitale diventa tangibile e su questo si gioca la vera rivoluzione, la partecipatoria, scusate gioco di parole, dei pazienti.